ciao a tutti ragazzi sono sempre io chiede il canale luigi cavalieri e questo video è un video dedica per princess twilight moon che sta gentilissima come mi ha sempre scritto i commenti allora lo voglio molto bene che ho fatto questo video dedica allora qui abbiamo la sua versione pony che sarebbe twilight cutie mark magic poi c'è poi la sua versione queste guerre che è twilight che dovrò fare qualche cambiamento e poi ho fatto anche un disegno dedica e poi ho fatto anche un disegno dedica che sarebbe twilight per il galavero pante eccolo e eccola qua che è twilight questo che gli piace che mi piace twilight e poi qua c'è tutti i cuori princess twilight moon e cara princess twilight moon ti ringrazio tantissimo ti voglio un sacco bene grazie per aver commentato grazie ancora e ragazzi questo è un video per princess twilight moon e per chi si è iscritto al mio canale e ciao a tutti voglio un sacco bene anche a te princess twilight moon grazie mille e questo è un video dedica e ciao 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 ciao